Musica Ciao a tutti e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Terratech Nell'ultimo episodio siamo andati a rifare totalmente il robottino Infatti guardate che bomba che è E l'abbiamo anche testato Quindi se siete curiosi andatevela a vedere come al solito Ma ragazzi in questo episodio io farò il robottino più potente in attacco Ovvero questo qui ragazzi Ho preso delle decisioni drastiche Cose che alcune ve le avevo chieste in passato E appunto mi aveva dato l'approvazione e tutto Ragazzi questo qui è sempre dato il nostro robottino tutto fare Ovvero cosa intendo Noi si andava a giro Sbam si attaccava Si minava Si farmava Ragazzi non è più così I tempi sono cambiati Noi siamo cambiati In questa serie i soldi ci hanno dato la testa Infatti guardate quanti cavoli soldi siamo riusciti a fare in un ultimo episodio Ragazzi oggi voglio rifarlo E con rifarlo non intendo completamente Ma intendo cambiare l'aspetto veramente di questo robottino Intanto leviamo le trivelle Perché leviamo le trivelle? Molto semplice Qua possiamo metterci due cannoni in cima Quindi più potenza di fuoco E poi sinceramente ragazzi non ci servivano Non andremo più a minare E ovviamente se non andremo più a minare ragazzi Del resto non ci serviranno nemmeno più i tractor dietro Ve l'avevo chiesto Mi avete detto si dai due puoi anche lasciare Nella fine cosa ti costa? No ragazzi non penso proprio che non ci serviranno Un'altra cosa molto importante ragazzi Intanto bisogna andare in modalità costruzione Perché se no non riesco a fare nulla E oltretutto così come fatto ora si dovrebbe ribaltare Se non stiamo attenti Modità costruzione ragazzi E intanto voglio vedere quanti blocchi dell'avventure abbiamo Ok ne abbiamo soltanto 8 8 sono pochissimi Andiamo a comprarne un pochettino ragazzi Perché voglio farlo totalmente con i blocchi dell'avventure Sinceramente non so se siano più resistenti Oppure no dei blocchi normali Mi sembra di aver capito nel corso della serie DC Sì soprattutto ho capito che sono più costosi Guardate che monte Cioè ciao ciao ragazzi Ciao proprio guardate che montagna Abbiamo speso un botto Spero ne valga veramente la pena sinceramente Comunque Perché ho fatto questo ragazzi? Guardate Sto allevando le ruote Non sono impazzito Non sono impazzito Voglio farlo grosso di 3 sinceramente Perché ho visto che torna molto meglio Quindi ragazzi Siccome questa qui potrebbe essere una cosa complicata Soprattutto perché devo andare a sostituire Anche tutti i pezzettini qua Che ci sono Con i blocchettini dell'avventure Perché appunto sono più leggeri E a noi ci piacciono le cose più leggeri ovviamente Ovviamente voglio cercare di farlo Senza distruggire tutto Perché io vi ricordo ragazzi Che se dovessi sbagliare A togliere un blocco Ok che posso tornare indietro Però comunque succede un po' un casino Tanto qui c'è la cabina normale Che ho tenuto questa qui ragazzi È l'unica cabina al mondo In cui si possono mettere anche i blocchi davanti Tutti gli altri I blocchi davanti non si possono mettere Ma questa veramente È tipo quasi quasi razzismo Veramente Comunque Appunto Volevo farlo spesso di tre Quindi Allora la cabina Sta da questa parte Quindi ho tolto le ruote Dall'unica parte in cui non le dovevo togliere Però alla fine va bene lo stesso Ragazzi Non è un grosso problema Perché tanto Andavano rimessi tutto Siccome era sempre sovraccaricato il robottino Ragazzi Non so se ve lo ricordate Andrò a mettere le ruote Tipo ovunque Ma Con ovunque Non intendevo sotto Non intendevo sotto ragazzi State tranquilli Questo è un errore di percorso Guardate così Sembra anche che sia più cattivo proprio Intanto qui c'era una torretta Messa totalmente a caso Intanto mi piace fare le cose a caso Comunque ragazzi appunto Io ora È almeno per il terzo strato Non ve lo faccio vedere Tanto devo semplicemente andare a rimuovere i blocchi Così Guardate nulla di spettacolare Quindi ci rivediamo appena Ho finito almeno questo pezzettino qua Ok Più o meno ho fatto ciò che intendevo Quindi ora qua Tappo Ok Allora ragazzi Vi spiego precisamente Perché ho fatto tutto ciò Intanto sia Qua ci sono altri blocchi Che andrò a sostituire Tranquilli Faccio tutto Comunque Allora Perché tutto ciò ragazzi Intanto mi sta veramente disturbando Il rumore di questo robottone qua Gigante Che si sta caricando Quindi allontaniamolo E ora c'è ovviamente il rumore dell'altro Che si carica No ragazzi Questa Questa madonna È una Questo qui il trutto è sempre sovraccaricato Ragazzi È una cosa incredibile Veramente Comunque Andrò un pochettino avanti Intanto non ci serve l'energia per il momento E guardate perché ho fatto questo Intanto Posso levare finalmente questo scudo Ragazzi Mi stava veramente dando noia Ve lo giuro lo scudo lì E guardate Ora So che molti mi criticheranno Questa mossa Però fidatevi È così Infatti nel corso della serie Molti di voi appunto M'hanno detto Guarda a metano Non ha senso che tu ci metti 20.000 batterie E robe varie Perché effettivamente Queste batterie qui Se tu ne metti uno Ne metti sette Si scaricano tutte È vero si scaricano tutte Sì ragazzi Però dura sette volte di più Ok quindi Semplicemente Ne metto Un'altra fila così Non ne ho tantissime Quindi per il momento Vanno bene queste A parte le ho messe proprio tutte Questa qui la levo Proprio perché tanto Non ci sta a fare nulla lì A dire vero non mi ricordo Perché le ho messe là sopra E comincio Già che ci sono Oh manca una ruota No Qua manca Ah è vero perché ho aggiunto Lo strato dietro Già 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 E oltretutto mi servono Anche altri blocchi Quindi ragazzi Li vado un attimo a comprare Perché ho visto che Non avevo presi abbastanza Dell'aventure qua Quindi i blocchettini Quali sono Eccoli qua Ne prendo Un altro pochettino Un altro non bastano mai Cioè se hai visto Alla fine che ce ne servono tantissimi E perfetto Metto la ruota Pure qua Ok così va benissimo Ora voglio farvi vedere Un altro vantaggio Di averlo spesso Tre e non due Guardate Vedete che non è simmetrico Qua per niente Manco per il cazzo Proprio Cosa ho spostato Ho spostato quello sbagliato Quindi facciamo indietro Ok Come potete vedere ragazzi È tutto spostato in una fila Ora posso aggiungere Una fila di armi In più Ed è una cosa Veramente bella Però per fare questo Appunto devo mettermi qua vicino Perché devo anche Spostare tutti questi blocchettini Qui ragazzi E sinceramente io ho paura Che mentre sposto questi blocchi In alto così almeno li risucchia Ho paura che ci attacchi qualcuno Quindi almeno se stiamo qui Siamo un minimo potenti Quindi allora Andiamo a levare questi qua Proprio Così in modo ignorantissimo Ok Si stiamo distruggendo tutto ragazzi Mi Veramente vi giuro Mi sta prendendo male In questo momento Cavolo Perché proprio Vedo il mio robottino Andare via Tipo tutto in fumo Così Allora Andiamo subito a prendere questi qua Perché se ci attaccano ora Io ve lo dico Si mette male Ma molto male Quindi allora Se non sbaglio Era messo così Poi qua C'erano i blocchi sopra E poi ce n'erano altri Messi così Perché c'era lo schema A piramide Ragazzi qua Quindi vado a levare Questa torretta qui Perché appunto Lì devo aggiungere altri blocchi Ragazzi se ora Veramente Se ci attaccano in questo momento Io ve lo dico Possiamo chiudere la serie Perché ci devastano tantissimo Non abbiamo nemmeno Non abbiamo nemmeno una torretta Come al solito qua Andrò sempre a Aggiungere di uno In più sporgente Perché così possiamo Avere più potenza di fuoco E passiamo Alle armi Ragazzi Le armi Non so se ne abbiamo abbastanza Per coprire tutta la zona Appunto che volevamo coprire Io ovviamente Le sto mettendo a caso Come sempre Ragazzi Non è una novità State tranquilli Quindi allora Le metto così Però Qua ok Ci riesco sempre a mettere La decente E ce ne stava Perché Ah questa non me la fa mettere Cavolo perché Questa l'ho messa storta Quindi ok Perfetta così L'ho messa bene Ne ho altri 15 eh Quindi con altri 15 Si riesce a fare Veramente tanto E qua in cima Ok Questi qua intanto Abbiamo in teoria Abbiamo già messo Un bordello di più Rispetto a prima E ora dovremmo andare A mettere Quelli invece che sporavano Dritto Che se non sbaglio Erano questi tubicioni Qua giganti Prima qua in cima Ragazzi C'erano due trivelle Basta Ora al posto di due trivelle Possiamo metterci Due di questi qua Che sparano dritti Più uno extra Perché l'abbiamo fatto triplo Quindi andiamo a metterli anche qua No Perché io Continuerò sempre A mettere le cose storte Ragazzi Continuerò sempre Cioè è una cosa Veramente incredibile Quindi Andiamolo a spostare Mettiamolo qui E questi qui Di lato Non si potevano mettere Ragazzi Perché se li metto di lato Guardate Spara proprio di lato Quindi qua di lato Posso metterci altri Torrettini dell'aventure Che appunto Spara in avanti E ragazzi Robottino Definitivo C'era dire però Un'altra cosa Molto importante Allora Praticamente Questo qui È un robottino Totalmente Da combattimento Non deve più farmare Quindi la velocità Non è assolutamente Un problema Sapete cosa vuol dire Bisogna metterci Le tanniche E i booster Ora Potrei metterci anche Uno di questi qua Che in teoria Dovrebbe farci andare Più veloce Non ne sono sicurissimo In teoria sì Ma non lo so Proprio ragazzi Comunque Mettiamo tutti i cosittini qui E dobbiamo metterci I razzi dietro Ce ne metto tanti Qua ok Non ha senso mettere Perché fanno così Fanno l'effetto lezzo E l'ho già finiti Ok quindi Qua ce ne lascio Soltanto uno E questo Lo butto qua indietro Di tanniche Ragazzi qua bisogna usare Le tanniche Queste qui Che stanno dritte Perché Ah no Posso usare queste qua Le metto tutte dietro Di così di cattiveria Però ne abbiamo altre Perché io qua ne ho una Bisogna vedere Se in uno shop Ci sono oppure no Quindi allora Andiamo nell'aventure E vediamo se sono comprabili Oppure no Queste qua Allora tutto qua Sono cose Safari Ma che cavolo Ah sono le luci quelle lì I led tamarrissimi sotto Ragazzi non ce li metterò In questo episodio Ma comunque in futuro Ci devo mettere assolutamente Allora ragazzi Sarà che sono cieco io Ma i bomboloni Non li vedo Questi qua E oltretutto Queste qui sono le tanniche Che se non sbaglio Si dovrebbero utilizzare Negli aerei Quindi non vorrei proprio sprecarla Per un mezzo di terra A questo punto Sinceramente preferisco Comprarmi queste qui Anche se costano tipo uno sbotto E pace ragazzi Almeno funzionano bene Forse contengono anche di più Vedete guardate come ci sta bene Lo stesso Guardate Sbam proprio così Oddio Benissimo no Però non è tanto male Poteva essere peggio Ora vediamo se si può girare In un modo magari più tattico Tipo così No fa schifo Fa veramente cagare così Era meglio come era prima Vabbè Così comunque ragazzi Ci può stare E andiamolo a testare Intanto vediamo Tutti i blocchi Sono protetti Si tutti E a questo punto ragazzi Proviamolo un attimo Proviamolo Ok così Sto semplicemente Utilizzando il booster Ci sta Così invece Sto utilizzando I cosi senza booster E col booster Ragazzi Io ve lo dico Se ci mettiamo le ali Con questo si vola E poi ovviamente Oddio che potenza di fuoco Guardate Proprio l'abbiamo devastato Qua continua anche a sparare Inferiamo sul cadavere Ragazzi Questa roba qua è potentissima Guardate L'abbiamo aumentato le batterie Abbiamo messo il coso Abbiamo messo altre ruote Fanno ancora le scintille Masticazzi È velocissimo ragazzi Cioè tipo c'è un nemico qui Ci rincorre Così tipo 3 secondi E siamo in fondo Ora Controlliamo qui Cosa stanno facendo questi qua ragazzi Che appunto ve l'avevo detto Che nello scorso episodio C'era uno che forse Stava costruendo una base Intanto Prima di guardare quello lì Voglio fare piazza pulita Perché l'avevo detto ragazzi Che era pieno di nemici qua Quindi distruggiamolo Olè Perfetto Oh ma ha dei blocchi strani lui È volato via il pezzo Che mi serviva Ma muori No 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 ragazzi Ragazzi Cosa fa Ha delle batterie Ha delle batterie strane questo Ha delle batterie strane ragazzi No 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 Ti prego Non le fa explodere tutte Mi servono per venderle Ti curo Ti curo Ti curo Ok 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 L'ho curato forse L'ho curato Attaccati 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 In qualche modo Non c'è più spazio per attaccarlo Ok l'ho attaccata Battery low Ok Ok Siamo riusciti a prendere Una batteria Della Venture Cavolo Non pensavo esistessero Non pensavo esistessero Vediamo Ma non sono batterie quelle Infatti non si sta consumando così Vediamo se si consuma Perché non è una tannica in teoria Ok No è veramente una batteria Infatti è allineata con le altre batterie E non con le tanniche Ok a questo punto ragazzi Voglio vedere se l'ho sbloccata E quanto Tieni cavolo Sembra Forse è semplicemente una batteria leggera Ragazzi Penso che la metterò nell'aereo Questa batteria qui Perché Sinceramente Le fanno apposta per gli aerei Quindi Non so se contiene di più o di meno Comunque Voglio vedere appunto Se l'ho sbloccata Ed è comprabile Oppure no Vediamo dov'è la batteria Ok che bello Non c'è nemmeno Non c'è nemmeno Ah eccola qua Eccola qua Ah mi Livello 3 Ciao proprio Ciao Comunque ci ho fatto caso a una cosa Praticamente ci sono questi qui Che sono i booster Però questi booster Sono diversi dagli altri Io penso che questi qui Sinceramente Ragazzi Siano più potenti degli altri E Secondo me Non è proprio un errore Quindi ora Vorrei un attimo provare A levare questi altri Magari Tanto ci abbiamo altri soldi E madonna Siamo ritornati ai soldi Che avevamo Nel episodio precedente Ragazzi Che tristezza Però perlomeno Siamo fatti con quei soldi lì Due robottini completi E non è affatto male Quindi torniamo Nel coso degli aerei qua A parte ne ho comprati troppi E già ce li avevo Vabbè Lasciamo stare Mi le attacco proprio di cattiveria Qua dietro Così E voglio vedere Se sono meglio Oppure no Controlliamo un attimo Ok Le ruote sono sovraccaricate Ma non mi interessa più di tanto Come al solito Tanto si sa che è ormai Un'abitudine Eh oddio Sì È più veloce ragazzi È decisamente più veloce Ma cavolo se consuma di più Cavolo se consuma di più Però cavolo è potentissimo così Ah madonna Avete visto? Stiamo volando Stiamo volando Con il robottino Da combattimento Ragazzi Abbiamo fatto stavolta Un robottino Veramente ignorante All'inizio della serie Mi avete detto Metano Perché fai questo gioco Non sai costruire Ok ragazzi Non so costruire Però perlomeno Negli ultimi due episodi Mi ho fatto due bombe Proprio veramente due bombe Non sto intendendo Questa qua Quella bomba Nel senso che esplode Perché si schianta Ma questi due qui ragazzi Sono veramente due robottoni giganti E potentissimi Voglio dare un ultimo sguardo A quella là Che penso sia una base Almeno pensavo Ora non lo so ancora Eh ragazzi Rispetto all'ultima volta Mi sembra sia cambiata Sinceramente Però Cambiata nel senso Forse si è girato Forse non è una base È veramente un robottino Fatto male Comunque chi se ne frega Lasciamolo fare ragazzi Noi il nostro Stiamo facendo Stiamo sempre diventando Più potenti Quindi sti cazzi di lui Detto questo ragazzi Spero sempre che questo video Leggissimo vi sia piaciuto Abbiamo fatto il robottone Da combattimento definitivo In verità non si sa se il definitivo Magari in futuro cambierà Ma comunque spero che questo video Vi sia piaciuto Ed è Ciao a tutti